E vedremo appunto i futuri progetti, cosa vogliono costruire appunto su Dubai. Per il momento è stata costruita, proprio per il momento è ferma, l'hanno fermata per il momento è giunto. Esatto, questa qua hanno cominciato a fare il 30%. 15 milioni di visita per me. Esatto. Quindi fra 10 anni, quindi più o meno ancora, tutto da costruire. Questa qua appunto è tutta Dubai. E questo è il mondo, questo qua è praticamente quello che dicevo, il mondo. Le 300 isole costruite, questo anello qua di protezione appunto che protegge tutta questa parte qua. Come vedete tutti hanno questa mezza, questa protezione per proteggere. E tutte hanno questa qua, per esempio, tutta questa parte qua. Tanti qua, magari con il treno del vino. Questo che vedete qua, questo è già quello presente, quello già costruito, questo qua. Questo ancora non è stato fatto, questo. Questo è dell'architettura araba. E questo è quello strano ricevuto nel futuro. E' stato il primo anno da scoprire. Esatto, il primo dell'anno. Esatto. E noi in pratica ci troviamo, io credo ci sono i direi fan, noi ci troviamo tutto lì. E' un'entrata di... No, questa è pratica, è l'ufficio in pratica che gestifica, che fa vedere tutto questo modellino. Ma i turisti pratica per vedere, è l'ufficio in pratica, tutto questo deve essere costruito, eh? C'è stato costruito questa parte qui, è costruito da tutto il resto che può andare a fare. Come cosa oidez? C'è stato costruito? C'è stato costruito? C'è stato costruito. Ogni poiché. C'è essere costruito. Questo è stato costruito. Ma è quello che ha, non? Non, perché è costruito. E' costruito. E' in questo contratto, in questo esempio, di un nuovo lavoro, che si avviano quindi esibili con tantissime volte, che si potrebbero creare l'alimenti, i viaggi, l'aereo, non è assolutamente l'eserro, non è un'istituzione, ma è un'istituzione, ma è un'istituzione particolare. Poi vogliono fare il concetto spaziale, è sempre questa cosa che può arrendare l'armi, che si può farmi vedere l'armi, ma sulla tuta, no, scusa, quello è una foto, no. Di societal no, quello è un'istituzione, è un'istituzione, è un'istituzione, è un'istituzione, è Questi infatti la fanno vedere appunto la riposizione dei dinosauri. Perché giostre, grandi, perché si facciano della sinistra. Ma il progetto assolutamente piace di più. Io questo guardo. Mettami qua, signora. Te le faccio vedere. Fai per lui! Mi voglio rubare 10 o 14 posizioni. Eh, per lui. Ma questo c'è. Restano 10 persone. Sono un po' indoluzione. Tra l'altro? Esatto. Questo è il privato con video sconsiglia. E' grande. La superficie. Che vi fa togliere la parte arancione. Qual è? Lui costruisce il golf. Però le guide saranno degli attivati ingegneri appunto di tutto il mondo. E saranno tutte così. Infatti vedete come saranno all'interno. Veramente lo stand è veramente di alta qualità. Veramente risponde attuale. Vedete? Ah, qua è sicuramente. E quella parte lì, allora. Quella parte punto nera che vedete sarà tutto quello lì. Leccano, non so se lo dico. Ehm. 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 Fino a 50 gradi. Fino a 50 gradi. Quindi non è caso. Sì no no. Infatti buono. Adesso è stato completato gli stadi. Stanno completando tutta la parte verde, diciamo il resto. Ma non apprezzo. Sono queste macchine pavolate. E questo è il pavolato? No. Non è veramente. Non è una struttura molto grande. Quindi. Ci sono dei simulatori. Ci si può fare il colbocaccio. C'è una pesta avvocata anche. e ogni tanto organizzano dei weekend delle gare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.